Ciao, io sono Andrea Petroni del blog di viaggi vologratis.org e sono qui per parlarti delle novità riguardanti il bagaglio a mano Ryanair. Dal 1 novembre 2018, nella tariffa base del bigliettero Ryanair, è compreso un solo bagaglio a mano, ossia una piccola borsetta con dimensioni massime di 40 x 20 x 25 centimetri. Per portare a bordo dell'aeromobile il classico trolley, ossia il bagaglio a mano con dimensioni massime di 55 x 40 x 20 centimetri e con peso massimo di 10 kg, bisogna acquistare la priorità d'imbarco o altrimenti scegliere il bagaglio da stiva da 10 kg. E' successo però che a fine febbraio l'antitrust ha combinato a Ryanair una multa di ben 3 milioni di euro per pratica commerciale scorretta. La compagnia ero costa irlandese ha però presentato ricorso al tar e il tar, in data 27 marzo 2019, ha sospeso la multa dell'antitrust, confermando l'udienza del 2 ottobre per discutere dei ricorsi in merito. Quindi al momento nulla cambia e per portare con sé il classico trolley bisognerà pagare un sovrapprezzo. Io ti terrò comunque aggiornato sugli sviluppi della situazione. Tu nel frattempo seguimi sul mio blog vologratis.org, sul mio profilo instagram vologratis e sulla mia pagina facebook vologratis.org. Ciao e buon viaggio!